ragazzi buongiorno la prima dacia duster nuova ma che bella perfetta anche bella ovviamente quanti chilometri alla macchina 500 vediamo ragazzi cambiata anche dentro a parte che ci sono milioni di video su youtube di presentazione di questa macchina e di test drive però noi test drive lo facciamo col peda sprint ragazzi impressionante nuovissima ricarica induzione per da sprint montato ovviamente la in bello imboscato che non si vede nulla che dire andiamo a provarla sta macchina non ci sarà il video dedicato perché non si può fare il video quindi vi faccio vedere solo la macchina e poi farò io la conclusione del video per dire come va la macchina nel finale come va il 900 turbo ovviamente questa gpl quindi tre cilindri turbo gpl quanti cavalli 90 100 cavalli questo ragazzi andiamo fuori a provarla vediamo come va sappiamo già come va perché il motore al fine sempre quello però su questa qua è molto più grande più bella a dopo ragazzi siamo rientrati dal test drive come va quel peda sprint ragazzi che dire perfetta c'è la macchina completamente si è si è svegliata era cioè aveva poca coppia in basso adesso è totalmente un'altra macchina totalmente un'altra macchina ottimo ragazzi c'è adesso provandola in race io ero al telefono con un cliente lui ci stava giocando e a race rimane a race ma schizza via che la macchina è micidiale come va sta macchina ragazzi non vi prendo il culo per non prendevi la targa comunque sa macchina targata g washington quindi è nuovissima due settimane di vita quando vi diciamo che le macchine arrivano nuove dal concessionario arrivano veramente nuove ragazzi stava che faccia 500 chilometri in quella di ieri non aveva 600 per dire tre settimane di vita dacia duster nuovo modello mille turbo gpl nel top c'è dentro tutto poi dite quello che volete convinti 2.000 euro giusto con la rottamazione convinti 2.000 euro in volata a casa la macchinina che è un capolavoro anche la vecchia duster non era male ma questa questa è una marcia in più c'è la è più molto più bella ragazzi manca il video ma fidatevi il cliente il cliente qua fianco a me ma decisamente totalmente un'altra macchina ragazzi quindi pedasprint promosso anche questa volta pieni vuoti ragazzi alla prossima da jerry pedasprint al 105 ragazzi guardate qua in alto quando passate passate questa è la via e qua a 105 con il cartello tutto nero con il muro grigio ragazzi alla prossima ciao grazie ciao ciao